Con i risultati di questa ventisesima giornata si è ricombattata la coppia di testa. Infatti Lennar resta in bianco sul campo delle Casteldaccia, mentre l'Acregas in pietro recupero supera il Gela con un penalty trasformato dallo specialista Garufo. Tutto questo a meno quattro turni dalla conclusione del torneo di eccellenza e a meno uno dallo sconto diretto in programma del Seneto il prossimo 5 aprile. Alle Bruccoleri Amaro risveglio per la Profavara che subisce il gol della sconfitta con la Mazzarese ad opera di Secan, mentre lo Sciacca rifila tre golle alla Leonfortese. Vittore esterna terresultana che passa Mazzara con una rete di maniscalchi. Ma vediamo quali sono stati i risultati della giornata. Acregas-Bat-Gela 1-0 Casteldaccia-Enna 0-0 Marineo-Cus-Palermo 0-0 Mazzara-Resuttana 0-1 Profavara-Mazzarese 0-1 Sciacca-Leonfortese 3-0 Nissa-Don Carlo-Mislmeri 0-4 Giocata sabato Parmon-Valle-Castellarmare 0-2 Giocata anche questa sabato Parmon-Valle matematicamente in il campionato di promozione. Questa è la classifica. Acregas-Eden 62 punti Segue la Profavara con 54 Più sotto il Don Carlo-Mislmeri con 50 Mazzarese 24 44 Mazzara 42 Unità-Sisciacca 41 Casteldaccia 29 Nissa 28 Castellammare 28 Oratorio-Marineo 27 Resuttana-San Lorenzo 26 Leonfortese 25 Cus-Palermo 23 Insieme al Gela La Parmon-Valle 8 punti Prossimo turno Cus-Palermo-Acregas Castellammare-Profavara Don Carlo-Mislmeri-Casteldaccia Enna-Oratorio-Marineo Leonfortese-Mazzara Nuova città di Gela Parmon-Valle Resuttana-San Lorenzo-Nissa E Mazzarese Unitas-Sciacca Dio E Mazzare-Fedra Cus-Palermo-Acregas Dio